Magari sei molto brava come babysitter, però se scambi il tuo tempo per dei soldi, più di tanto non riuscirai mai a guadagnare, a realizzare. Ma se ragioni come piattaforma è diverso. Magari conosci dieci persone che sono molto brave con i bambini e lanci un sito, titengolmarmocchio.it. Problema da risolvere. I genitori che come coppia non hanno mai un minuto libero. Canone mensile, 59 euro al mese e ti diamo il miglior servizio di babysitteraggio in circolazione. Certificato, le nostre babysitter, i nostri babysitter cantano la ninna nanna in 16 lingue diverse. Grazie a tutti.